Utilizzerà le moderne sale chirurgiche dell'ospedale di Argenta per interventi di natura vascolare e ortopedica eseguiti da chirurghi del Sant'Anna. Il centro, fortemente voluto dal comune di Argenta e dalla sanità regionale, realizza un progetto presentato un anno fa e illustrato in questi giorni ad una platea di specialisti della chirurgia mini-invasiva, medici, infermieri, dirigenti della sanità provinciale regionale, alla presenza di un illustre chirurgo di fama internazionale, nel convegno che si è svolto mercoledì 21 marzo d'Argenta, sotto la guida scientifica del professor Zamboni. Giovedì 22 marzo, poi, un workshop pratico ha messo in opera all'interno dell'ospedale Mazzolani Vandini di Argenta le nuove tecniche e gli strumenti necessari per operare in modo meno invasivo le gambe affette da varici o da problemi osteomuscolari. A tenere a battesimo l'iniziativa e il centro, il professor Paolo Zamboni e la sua equip. La cosa interessante è poter riuscire a creare degli interventi per le gambe, per gli arti inferiori, che vengono svolte con modalità ambulatoriale di dei sargeri, cioè interventi che riescono a dare una funzionalità, quindi un recupero della funzione delle gambe, con una risposta poco invasiva, quindi molto rapida e quindi con anche una ripresa delle attività lavorative delle persone altrettanto rapida. Ecco, ma queste malattie diciamo circolatorie, lei ha rilevato un'incidenza rilevante sulla popolazione? Non solo io, diciamo che sicuramente la malattia vascolare è la più alta diffusione del mondo, immaginate che circa il 20% della popolazione ha forme importanti, quindi che potrebbero necessitare di interventi chirurgici, quindi stiamo parlando veramente di una popolazione di diversi milioni di persone solamente in Italia. Gli interventi fatti con modalità tradizionali, per darvi un'idea, sono solo 150 mila all'anno. Nonostante questo è il quarto intervento più praticato nel nostro paese, ma è come tirare via con un cucchiaino l'acqua dall'oceano, quindi avere a disposizione delle tecniche molto più rapide, molto meno invasive, che non prevedono ricovero, chiaramente potrebbe essere una soluzione sia di risparmio, sia di migliore efficienza per le persone. Sergio Genesini, chirurgo, oggi ha portato qui al convegno un suo punto di vista, una sua relazione, che ha inquadrato la chirurgia vascolare in una circonferenza più ampia, determinando anche la necessità di approfondire gli aspetti, diciamo, prechirurgici, diagnostici, ma soprattutto lei ha parlato di una necessità di esplorare ancora più intensamente l'emodinamica. Cosa significa? Significa per l'appunto che più che un punto di vista ormai è un evidence based, come si dice in medicina, cioè basato sull'evidenza, il fatto che possiamo, grazie alle innovazioni tecnologiche, diagnostiche, terapeutiche, offrire al paziente un trattamento che è ritagliato sulla misura emodinamica del paziente, nel senso di andare per l'appunto a capire esattamente dove cominciano questi reflussi venosi e come confezionare un abito su misura terapeutico, che possa portare non solo alla mini-invasività come vantaggio e quindi ha un'operabilità easy e in tempi rapidi di emissione, ma anche ha un risultato duraturo nella percentuale di recidive e quindi nel vero successo terapeutico. Quindi il concetto stesso di chirurgia mini-invasiva deriva dal fatto di saper localizzare bene e soprattutto dimensionare bene la necessità e la portata di un intervento. Per continuare in questa metafora sartoriale e medica è la necessità di trovare il punto esatto in cui aggiustare l'abito affinché possa dare il miglior risultato sia estetico nel discorso della mini-invasività che di comfort nel termine del risultato terapeutico.